Io adesso sono al C3, in cabinato, e continuerò poi anche con un C4, itinerante. La bellezza è il cabinato che è andare per mare, quindi la deriva è senz'altro adrenalinica, ci si mette in gioco, si gareggia, però il cabinato è la vera vita di mare, è imparare a fare un percorso e fare un viaggio, la barca è anche un viaggio, l'andar per mare è quello che viene insegnato ai corsi cabinato. Oh 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 Una cosa bellissima del corso di camminato è che sia in tanti sia in barca, bisogna trovare il modo di collaborare tutti insieme, nei momenti di tensione, nei momenti di leggerezza si è tutti quanti insieme e si fa equipaggio, quello è bellissimo e ci si scopre anche sotto lati diversi, sotto punti di vista diversi, non importa l'età, non importa quello che si fa nella vita, c'è l'occasione veramente di fare equipaggio e andare lontano insieme. Grazie a tutti